Continuano le ricerche di Elena Ceste, la donna scomparsa venerdì scorso a Costigliole d'Asti. La 38enne, sposata e madre di quattro figli, ha dato le ultime notizie di 6 il 24 mattina. Quando il marito è tornato a casa, di lei non c'era più traccia e il suo telefono cellulare squillava a vuoto. I vigili del fuoco stanno concentrando le ricerche nei dintorni del fiume Tanaro, anche con l'ausilio di gommoni ed elicotteri per battere tutta la zona. Grazie.